Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ancora una raffica di ritardi e cancellazioni per i treni tra Arezzo e Firenze. Grandi disagi ovviamente per aiutenti tra cui numerosi pendolari a retini. Sui tabelloni delle stazioni di Arezzo e del resto della provincia, oltre alle indicazioni dei coinvogli che sono stati direttamente soppressi, ce ne sono state altre con ritardi senza dubbio clamorosi. In ragione delle cancellazioni ci sono stati anche vagoni sovraffollati al limite dell'agibilità. La motivazione dei disagi fornita da Trani Italia è stata la presenza di estranei sui binari nei pressi di Firenze. E ancora viabilità ma torniamo a parlare della Due Mari. Prosegue infatti l'ITERA per l'approvazione del progetto definitivo sulla quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero. Adesso con alcune novità. Vediamo il servizio. La Due Mari accelera nel tratto a retino. È infatti partita una nuova procedura per gli espropi. Lo scorso 11 settembre ANAS ha pubblicato l'avvio del procedimento per l'approvazione della pubblica utilità del progetto definitivo della Due Mari per l'adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno-Arezzo-Palazzo del Pero con l'aggiornamento dell'elenco degli espropi. Da 471 parcelle catastali coinvolte si passa a 426. Da quanto emerge dalle carte, novità sul tratto a retino che va da San Zeno a Via della Robbia. Modifiche modeste alle infrastrutture viarie e agli espropi. Sarebbe invece confermata l'eliminazione del cavalcavia in Via Salvadori, punto sul quale il Comitato di Cittadini si è battuto in questi mesi. Nessuna novità invece per quanto riguarda le bretelle, indispensabili prima che parta la canterizzazione principale dell'otto. Da San Zeno a San Giuliano la prima, da San Zeno verso la strada regionale 71 la seconda. Saranno costruite nei mesi antecedenti al cantiere nello snodo di Olmo. Il progetto era stato approvato in fase di conferenza dei servizi dopo la pubblicazione dell'11 settembre dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai cittadini resta un mese dalla pubblicazione, quindi fino all'11 ottobre, per presentare nuove osservazioni. Due cantieri in a città invece sono ormai attesi da tempo, quello di Via Fiorentina e Via Fabio Filzi. Abbiamo fatto l'appunto sui lavori con l'assessore Marco Sacchetti. Nel mese di settembre e la prima parte del mese d'ottobre era previsto il completamento dello spostamento dei sottoservizi con il riallacciamento delle nuove linee con le linee esistenti e la dismissione del tratto di linee, tubazioni e compagnia bella interferenti con gli scavi. Ad oggi questo mi viene confermato, quindi io mi attendo che da metà ottobre in poi possa finalmente partire il cantiere principale con gli scavi. Come da cronoprogramma, l'arrivo delle ruspe in Via Fiorentina per lo scavo del sottopasso è previsto per metà ottobre, una volta concluso l'intervento sui sottoservizi. Nella zona è anche nato un comitato di residenti e commercianti che da tempo chiedono un maggior coinvolgimento all'amministrazione comunale. Io personalmente sono ovviamente aperto a qualsiasi dialogo, a qualsiasi confronto. Chiaramente l'input e l'obiettivo è quello di realizzare l'opera, quindi cerchiamo il modo di ottimizzare e trovare una sinergia tra la necessità di realizzare l'opera e di minimizzare gli impatti sui cittadini e sull'impresa. Io questo mi sto impegnando personalmente, non garantisco ovviamente, ci saranno dei disagi, è inutile nasconderlo, però vediamo poi di fare degli incontri quando ci sarà un cronoprogramma esecutivo da parte dell'impresa. Ora, come dire, non anticipiamo troppo perché 15 giorni di ritardo, 15 giorni di anticipo potrebbero poi sfasare sui tempi in cui ci sono le chiusure o meno, per cui va visto un po' di volta in volta. Potrebbe essere invece vicina la svolta per il cantiere di via Fabio Filzi dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. Proprio oggi pomeriggio c'è un incontro con tutto lo staff di comune, i vari settori, per esprimersi sulle proposte che il soggetto finanziatore ci ha fatto. Dal mio punto di vista, secondo me, è processabile la proposta e quindi anche lì, se tutto va bene, i lavori dovrebbero ripartire a breve. Il soggetto esecutore c'è già, è stato già nominato, individuato. Antenna di Via Sicilia intervengono con una nota congiunta il vice sindaco Lucia Tanti e l'assessore Francesca Luccherini che è in attesa delle verifiche per il procedimento di autotutela e invitano tutti alla prudenza. Fino a che gli esiti non saranno definitivi e comunicati, riteniamo irrespettoso, fanno sapere, far finta di niente, troppa fretta rischia di attivare cattivi pensieri. Mi preme sottolineare, specifica poi l'assessore Luccherini, che il piano delle antenne in corso di redazione non è fermo ma è attualmente al procedimento obbligatorio di valutazione ambientale strategica. Una volta conclusa questa fase, seguirà una parte partecipativa con i cittadini prima del passaggio in consiglio comunale. E adesso passiamo alla politica. Matteo Salvini ha presentato i nuovi dipartimenti della Lega coordinati da Armando Siri. Tra questi anche un esponente toscana del Carroccio. Si tratta dell'attuale vice segretaria regionale, e deputata Tiziana Nesini, che si occuperà del Dipartimento Lavoro. E adesso l'economia è stato il Teatro Petrarca ad ospitare i 40 anni del premio Fedeltà. Un'eccellenza del nostro territorio, premiata tra le migliori ospedie d'Italia nel 2023. È stato il Teatro Petrarca di Arezzo ad ospitare il premio Fedeltà al Lavoro e allo sviluppo economico 2024, organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. E proprio ai suoi vertici abbiamo chiesto come sta l'economia retina. Presidente, questa giornata serve sempre un po' ovviamente a ricordare, come avete appena fatto, coloro che da tanti anni sono su questo territorio, ma anche un po' a fare il punto sotto un profilo del nostro futuro, del guardare avanti. Come sta l'economia? I dati che abbiamo naturalmente sono ancora confortanti. abbiamo dei segnali ovviamente che riguardano poi non solo noi, ma tutto il Paese, di rallentamento soprattutto in alcuni settori che in qualche modo si stanno già annunciando. Dobbiamo dire che i dati che abbiamo noi dipingono un territorio economico come quello a retino, ancora comunque in salute. Vediamo il settore orafo che ha ancora delle grandissime performance. Vediamo l'ultimo dato sulle esportazioni che addirittura cresce a doppia cifra. continua a crescere tantissimo, peraltro, e quindi ovviamente in questo siamo molto confidenti. Certo è che alcuni settori, come ho ricordato anche prima, come la moda, hanno qualche problema ancora risolto e dobbiamo dire che purtroppo dura anche da molti trimestri. Quindi ci preoccupa, ma abbiamo anche tutto un panorama, un tessuto economico che evidentemente spazia da servizi all'agricoltura, non solo appunto dalla manifattura, all'artigianato, ma anche quindi in economia domestica, che ancora comunque è radicato e fortemente impegnato a resistere e a dare ancora dei numeri positivi. Sono oltre 35.000 le imprese del nostro territorio con un'occupazione tra l'altro in crescita, sono circa 116.000 gli addetti e sono cresciuti di oltre 1.300 unità nell'ultimo anno, quindi comunque questi dati ci devono far riflettere appunto anche in senso positivo, quindi non solo in una previsione anche futura, anche nel vicino futuro, che forse qualche momento di incertezza ce lo potrà avere. Ecco, ce l'eravamo già un po' detti, appunto il settore della moda ci confermate, a questo punto immagino anche con qualche numero sta soffrendo, cioè è quello che comunque soffre di più in questo momento? Sì, ci sono varie concause legate soprattutto alla ripresa improvvisa insomma dopo il Covid della produzione che poi ha incrociato un'inflazione significativa e quindi ha un po' raffreddato i consumi, quindi c'è un po' di difficoltà. Il costo della materia prima, la logistica, la difficoltà del contesto geopolitico, insomma non aiutano questo quadro per la ripartenza del settore della moda. Però confidiamo che nel 2025 ci sarà sicuramente una ripresa, anche legata sicuramente all'andamento del settore orafo. Al momento le previsioni sono difficili da fare, però crediamo che comunque il Made in Italy non abbia difficoltà insomma a riaffermarsi nel momento in cui il quadro anche internazionale sia un pochino più stabile dopo magari le elezioni americane. Ad Arezzo partirà breve ad ottobre un piano di servizi di assistenza sociosanitaria per persone fragili o in situazioni di disagio voluto dalla Croce Rossa. È nato praticamente dalle ceneri di quello che abbiamo fatto durante il periodo di pandemia. Ci siamo resi conto che la preoccupazione più importante di queste persone non era tanto il virus che circolava ma la sensazione di essere soli. Si chiama Mai più soli ed è il piano di servizi di assistenza sociosanitaria per persone fragili o in situazioni di disagio che la Croce Rossa italiana metterà in campo da ottobre ad Arezzo. Il progetto praticamente va ad integrare il nostro sportello sociale d'ascolto che ormai esiste da più di 15 anni e viene integrato con dei servizi in più dal supporto psicologico al sostegno alimentare al sostegno al pagamento delle utenze ma anche a cose magari più semplici per noi, per un anziano magari una barriera dovuta alla tecnologia potrebbe essere una difficoltà magari anche semplicemente per prenotare una visita piuttosto che avere un trasporto sanitario qualora ne avesse bisogno. Il progetto che vede la collaborazione con la fondazione Arezzo Comunità ha ricevuto un finanziamento su base triennale dalla fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Questo dimostra tre cose la prima è che Croce Rossa come sappiamo è un ente ormai istituzionale che dà risposte di sistema e che va a intervenire in quelle sacche di disagio anche semplicemente di solitudine che spesse volte hanno anche manifestazioni piuttosto drammatiche la seconda è che la fondazione Arezzo Comunità fa il proprio cioè intercetta quelle risorse che magari difficilmente seppure enti importanti come Croce Rossa potrebbero avere difficoltà a intercettare la terza è che questa diventa sempre di più una città modello nel rapporto pubblico-privato rispetto alle politiche sociali. L'obiettivo dunque è quello di potenziare i servizi per le persone in stato di vulnerabilità che possa garantire loro l'accesso alle cure di medicina primaria e specialistica interventi di screening prevenzione e supporto psicologico e la consegna di farmaci ma anche di beni alimentari. In quest'ottica saranno creati ambulatori solidali. Due sono in fase di ristrutturazione che sono ambienti che abbiamo ricavato dalla nostra sede e altri due saranno sempre ricavati da altri ambienti della nostra sede ma saranno attivati in uno step successivo. Gli ambulatori che dovremo fare saranno principalmente ambulatori destinati a chi magari per motivi esterni è stato costretto a uscire magari dai percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Tra le azioni previste infine il rafforzamento delle unità di strada e il sostegno domiciliare per persone anziane. È partito in via sperimentale nell'altra Toscana Sud-Est il servizio dello psicologo di base. Un servizio pensato per intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire forme croniche o manifestazioni importanti ed acute. Si tratta di un primo livello di assistenza integrata nel segno della collaborazione stretta con medici di famiglia pediatri di libera scelta con l'obiettivo di una rapida presa in carico della cittadino. Un servizio che coinvolge le tre asla toscane nell'asla toscana sud-est ovviamente nell'aretino interesserà la Cata della Salute di San Giovanni. Val D'Arno. E visite cardiologiche gratuite per le donne fra i 45 e i 55 anni invece all'ospedale di Arezzo in occasione della giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre ma anche visite per entrambi i sessi all'ospedale del Val D'Arno. La fondazione Honda ITS ha organizzato un Open Week dalla 26 al 2 ottobre che vede l'adesione di oltre 150 ospedali italiani del Network Bollino Rosa tra cui appunto nella provincia aretina il San Donato e il Santa Maria alla Guccia. E sarà invece una giornata interamente dedicata ai donatori di sangue dell'Avis Comunale di Arezzo quella di domenica 13 ottobre quando è in programma la tradizionale festa del donatore che tornerà a proporre un'occasione in cui riunire, ringraziare e premiare i cittadini che hanno contribuito all'attività dell'associazione in sostegno e risposta ai bisogni sanitari del territorio. I donatori per l'Avis Comunale di Arezzo sono stati 1864 solo nella 2023. Un altro appello alle donazioni di sangue arriva anche dalla Frates di Rigutino. Sentiamo. Presidente, vi avvicinate a questa domenica 22 settembre una festa per voi importante. Perché? È importante perché dobbiamo continuare a sensibilizzare le persone a donare sangue. Siamo in un periodo un po' difficile in quanto il ricambio generazionale stenta, stenta. Le persone da interpellare e portarle nel percorso che porta a quel gesto straordinario che è la donazione del sangue sono sempre meno. Gesto straordinario non solo per chi riceve ma anche per chi dona. perché ricordiamo che come dire ci si vuole bene perché bisogna fare tutta una serie di esami che alla fine sono un po' un controllo della propria salute. Certamente. Oltre al grande gesto straordinario che serve a salvare la vita alle persone c'è da dire che ogni volta che il donatore compie questo gesto viene controllato sistematicamente il suo stato di salute. Tengo anche ad aggiungere che il donatore una volta all'anno ha diritto di avere l'esame completo del proprio sangue. Chiunque vuol donare possiamo ricordare che ovviamente ci sono le associazioni sul territorio come la vostra in questo caso la Fratres di Rigutino ma anche i centri negli ospedali giusto? Certamente tutti i martedì e i giovedì siamo presenti nella sede per contattare i nostri donatori. vi aspettiamo non dimenticate mai che una donazione di sangue può contribuire a salvare una vita. Grazie. Per l'ordine degli infermieri di Arezzo è tempo di elezioni e così la Presidente Giovanni Grasso ha fatto un bilancio di questi 4 anni di mandato. Uno degli obiettivi su cui potremmo veramente vantare il nostro contributo importante è stato quello sull'infermiera di famiglia e comunità che questa comunità soprattutto quella retina la provincia di Arezzo ne è protagonista a livello nazionale ha visto come l'assistenza sia spostata dall'ospedale al territorio quindi tutto il territorio provinciale e soprattutto quello comunale viene garantito dagli infermieri di famiglia e comunità che sono 116 su tutto il nostro territorio provinciale che vanno a casa delle persone per assisterle proprio nel momento di bisogno. Giovanni Grasso traccia un bilancio di questi anni alla guida dell'Opi l'ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo e della Toscana tanti gli obiettivi raggiunti ma anche quelli ancora da raggiungere come ad esempio la prescrizione infermieristica Arezzo potrebbe essere la prima in Italia di queste ultime ore l'assunzione di 33 infermieri che arriveranno all'ospedale San Donato di Arezzo ma le necessità sono decisamente più alte rimarca il presidente di Opi sicuramente è un dato positivo perché i 33 infermieri entreranno a far parte la squadra dell'emergenza e l'urgenza è chiaro che è un solo segnale che però ecco a noi serve veramente una quantità tale di infermieri che possa garantire un adeguato standard di personale all'interno di tutti i setting perché l'area dell'emergenza e l'urgenza è uno dei tanti ma le carenze sono croniche in tutti gli altri reparti quindi è necessario e soprattutto l'ordine professionale monitorà anche attraverso un colloquio regionale che faremo con l'assessore Bezzini nei prossimi giorni per cercare di ovviare a quelle che sono le carenze attraverso l'ausilio della graduatoria attualmente attiva di tanti doni che hanno superato il concorso quindi da parte nostra sarà un puntuale e attento monitoraggio di quelli che sono i nuovi ingressi all'interno del sistema sanitario in un certo senso ha già risposto però se progetti come ad esempio quello dell'infermiere di misericordia attecchiscono in maniera così importante nella popolazione vuol dire che si intercetta un bisogno al quale a oggi non c'è una risposta dal punto di vista della sanità pubblica diciamo che l'infermiere di misericordia è un servizio infermeristico che viene garantito la misericordia come viene garantito anche a livello privato da tanti libri professionisti è chiaro che attualmente il servizio di misericordia va non solo diciamo sia ad affiancarsi ad un sistema già attivo e funzionante come quello dell'infermiere di famiglia e comunità perché viene preso in carico il paziente diciamo che è un complementare ma è necessario però mantenere sempre alta l'attenzione perché chiaramente avere poco personale all'interno dei vari setting sicuramente porterà ad avere dei bisogni di assistenza e delle necessità di questi cittadini che dovranno essere in qualche modo garantiti e noi come infermieri soprattutto come ordine professionale porteremo avanti questa battaglia cercando di tutelare i nostri cittadini Arezzo Cuore è stato premiato ieri in Senato per i 10 anni di attività nella diffusione delle manovre di rianimazione d'uso del defibrillatore nelle scuole riconoscimento consegnato nella sala capitolare del Senato della Repubblica per Arezzo Cuore è stata premiata una delegazione che ha partecipato al progetto composta da Thomas Storio operatore 118 Arezzo la professoressa Antonella Bianchi rappresentanza del provveditorato agli studi della provincia di Arezzo e Antonio Cropano del centro di formazione Etrusco grazie al progetto Arezzo Cuore in questi 10 anni sono stati formati oltre 18.000 studenti e attualmente sono 310 i docenti in grado di insegnare le manovre di rianimazione e utilizzo dell'AE agli studenti una bella storia di generosità invece arriva dalla Valtiberina quella di due bambine fuggite dalla guerra in Ucraina e ospitate dalle famiglie anghiaresi si chiamano infatti Milana e Olena 6 e 11 anni le due bambine in Ucraina è già rientrata adesso nel loro paese per l'inizio dell'anno scolastico ma che grazie alla generosità degli anghiaresi hanno potuto trascorrere un'estate lontana dalla fragore delle bombe in un clima di serenità l'iniziativa fa parte di un progetto di accoglienza promosso dal Ministero delle Politiche Sociali e svolto dall'Associazione Puer le piccole sono state ricevute nella sala del Consiglio Comunale da dove è partito anche un appello dell'assessora Taddei per ripetere questa iniziativa nelle prossime festività il sabato 21 settembre invece si svolgerà nella sala dei grandi del Palazzo della provincia di Arezzo un incontro in ricordo dell'onorevole professore e avvocato Felice Dettore l'iniziativa è promossa e voluta da Alessandro Polcri presidente della provincia e Francesco Macri presidente di Estra assieme ai colleghi e ai familiari che vogliono ricordare ad un mese della sua scomparsa la figura della professore Dettore e adesso voltiamo pagina infatti tutto pronto per la quarta edizione di Marcenando l'arte camminando l'evento dove arte cultura e letteratura diventano veicoli di promozione territoriale l'appuntamento è fissato per domenica 22 settembre a Marcena fulcro di questa edizione l'inaugurazione del monumento dedicato alla donna croce rossina del maestro Alessandro Marrone ed inizia il racconto alla rovescia anche per la seconda edizione di Harmony World Stop Violence l'iniziativa organizzata dal comune di Monte San Savino con il coordinamento dell'associazione premio internazionale semplicemente donna in calendario venerdì 27 settembre alle 21 al Teatro Verdi tra i premiati Filippo Galli Stefano Tacconi e Carolina Costner e ci sarà anche un appuntamento che precederà come sempre il premio e si tratta dell'iniziativa Play Together che trasformerà il centro storico di Monte San Savino in un villaggio dello sport a cielo aperto è adesso un'iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza quella in programma sabato prossimo e si tratta della maxi mobilitazione per la pulizia dell'Arno guanti da lavoro pettorina gialla e soprattutto tanta buona volontà per ripulire l'Arno dai rifiuti a Ponte Buriano sabato 21 settembre per la prima volta si incontreranno infatti Puliamo il mondo e Argini Puliti la grande campagna di sensibilizzazione ambientale promossa ed organizzata da Lega Ambiente Arezzo in collaborazione con Comune Consorzio di Bonifica Due Alto Valdarno e Associazioni del Territorio si somma così all'iniziativa voluta dalla fondazione Arezzo in Tour e realizzata in collaborazione con l'associazione T-Rafting a partire dalle 15.30 decine di persone a piedi e in kayak esploreranno acqua e sponde per rimuovere plastiche e oggetti abbandonati La giornata di pulizia per la prima volta si inserisce nella cornice della campagna Splasticando i Fiumi sostenuta dall'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Durante l'evento verrà presentata la mappatura del corso d'acqua realizzata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con T-Rafting che ha permesso il recupero di quintali di materiali La partecipazione è dunque aperta a tutti cittadini famiglie scuole o chiunque voglia dare una mano per migliorare il territorio Mercoledì 25 settembre alle 18 verrà intitolato all'ex portiere Amaranto Giuliano Giuliani il parco pubblico di Via Giovanni Acuto in zona Pescaiola L'iniziativa è promossa da ora Officina Rilancio Arezzo e dalla Museo Amaranto Nell'occasione in omaggio alla memoria di Giuliani alle 18.15 è previsto anche il fischio d'inizio della partita di calcio a 5 tra le vecchie glorie Amaranto e il Napoli Club Arezzo E adesso lo sport giocato l'Amaranto Giorgia Cardarelli ha fatto il suo debutto con la maglia della nazionale Under 17 dall'11 al 15 settembre si è svolta l'ottava edizione di un torneo per le giovanili delle nazionali che si svolge tra Fruili Venezia Giulia e Slovenia cui ha preso parte anche l'Italia appunto tra le convocate Giorgia Cardarelli in finale contro la Macedonia del Nord l'Italia ha vinto per 3-0 vincendo il torneo e regalando a Giorgia un primo trofeo internazionale e anche un'altra giovane Amaranto è stata convocata in nazionale in questo caso l'Under 19 si tratta di Carlotta Sena che dall'8 al 12 settembre ha preso parte al raduno al centro di preparazione olimpica di Tirrenia e sono invece 400 atleti atlete a far parte della nuova stagione della scuola basket Arezzo la società ha raggiunto numeri da record con ben 25 gruppi sportivi che dalla serie B al mini basket avranno la responsabilità di rappresentare la palla canestro aretina a diversi livelli tra campionati nazionali e regionali maschili e femminili questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a